Sembrano proseguire parallelamente i lavori di riqualificazione portati avanti dall'amministrazione comunale e le azioni vandaliche che tentano di far ripiombare le zone ripulite nuovamente nel degrado. I sottopassi vengono riqualificati e qualche giorno dopo tornano in azioni i writers, pronti ad imbrattare nuovamente le pareti tornate solamente per alcune ore bianche. Le iniziative anti-degrado comunque proseguono, passando dalla cinta muraria ai sottopassi. I lavori conclusi sono prevalentemente quelli dei sottopassi all'interno dei quali abbiamo rimbiancato, abbiamo in alcuni casi rivisto l'illuminazione e in alcuni casi siamo anche dovuti rintervenire e oggi rinterverremo ulteriormente perché i vandali evidentemente non si annoiano, non trovano tregua. Abbiamo fatto i vari sottopassi di via Vittorio Veneto, della Tricca, di via Romana, di via Trasimeno, ora sono a Villaggio Dante e poi proseguiremo con quello del Parco Giotto e così via. Poi le riqualificazioni vanno avanti anche all'interno dei parchi, all'interno di altre zone degradate della città e delle nostre periferie. A breve partirà anche la pulizia delle mura all'interno della Porta San Laurentino. Nei programmi dell'amministrazione sono già presenti iniziative volte alla manutenzione del decoro urbano, tramite progetti educativi da presentare all'interno degli istituti, i scolastici aretini. È un'iniziativa che abbiamo costruito insieme al vice sindaco, è appena partita, quindi siamo proprio alla fase iniziale. Faremo delle visite delle scuole, concordandolo ovviamente con i dirigenti, di ogni ordine grado, per fare un po' di, come dire, istruttoria sull'educazione civica in questa città e far passare il concetto che queste scritte non sono arte, non sono belle, sporcano, costano e chi le fa non è un artista ma è uno stupido e quindi faremo passare un concetto preciso che il decoro è un valore, che lo difendiamo, che essere rigorosi al rispetto di ciò che ci circonda è un valore sul quale non torniamo indietro e se qualcuno ritiene di essere un artista compre una tela e faccia i disegni lì, insomma.